Buongiorno a tutti, benvenuti alle nostre interviste con il giorno dell'Alto Adige. Oggi stiamo qui con l'avvocato Cocca, che è il referente provinciale per l'associazione Crescere Insieme. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, lei oggi ci parlerà di una cosa molto interessante, che è il registro della bigenitorialità. Spieghiamo che cos'è. Sì, allora, il registro della bigenitorialità rientra in un ampio progetto di ampio respiro nazionale che prevede il doppio domicilio per i figli di genitori separati e divorziati. E quindi, in questo modo, tutti i comuni dell'Alto Adige avranno la possibilità di attribuire loro sia il domicilio materno che paterno. Quindi un esempio è uno stimolo, innanzitutto, per la magistratura per attuare in maniera molto accurata quei diritti indisponibili che sono già riconosciuti dalla legge sull'affidamento condiviso, della quale la nostra associazione è stata ideatrice e promotrice. Questo registro, naturalmente, comporterà una serie di vantaggi per i figli in primis e, in secondo luogo, anche per i genitori. Innanzitutto, si elimineranno tutti quegli inconvenienti legati ad una prassi ormai distorta che prevede che ci sia un solo genitore collocatario. E quindi niente più liti nelle aule dei tribunali tra genitori, in merito alla cosiddetta collocazione prevalente. E, in secondo luogo, tutti gli enti pubblici e privati saranno obbligati a comunicare ad entrambi i genitori qualsiasi notizia importante riguardante i propri figli. Basti pensare, ad esempio, alle comunicazioni scolastiche o di carattere sanitario. E, per di più, per quanto riguarda le comunicazioni sanitarie, c'è da tener conto che ogni figlio avrà la possibilità di godere delle cure di due pediatri, di due medici, nei rispettivi comuni di residenza dei genitori separati e divorziati. Quindi, con congruo anche risparmio di denaro e tempo per i genitori separati e divorziati. E, in più, non solo vantaggi che sono legati, non per i bambini, diciamo, ma anche per i genitori stessi, facciamo un esempio, contributi per l'affitto. Sì, nella nostra provincia è in vigore da tempo la DURP, la Dichiarazione Unificata del Reto e Patrimonio, che consente ai genitori, alle famiglie, di ottenere determinate agevolazioni. In questo modo, con il doppio domicilio, ogni genitore potrebbe far rientrare nei parametri cosiddetti del nucleo familiare i figli che risultano domiciliati presso la propria abitazione e quindi pari agevolazioni provinciali per tutti, senza alcuna distinzione. Pari diritti, ma anche pari doveri, quindi si andrebbe anche a evitare, insomma, di trovarsi di fronte a un genitore che si interessa poco o relativamente poco. Esatto, questo è un fattore importante perché spesso, a seguito delle separazioni, dei divorzi, ci sono tanti genitori che si defilano dai loro compiti, dall'assunzione di responsabilità e quindi questo registro porrebbe anche un freno, un limite da questo punto di vista perché non ci sarebbero più alibi nei confronti di quei genitori che dicono non eravamo a conoscenza di determinate situazioni, di determinate comunicazioni. Quindi, assunzione di obblighi, assunzione di responsabilità e questo è il vero affido condiviso. Perfetto, Avvocato, grazie, grazie mille e ci risentiremo quando entrerà in vigore il Regista. Grazie a lei, buona giornata, grazie.